ciao benvenuto benvenuto in questo video in cui voglio parlarti di crisi all'interno della scuola di coaching resonance l'obiettivo è quello di fornirti degli strumenti delle abilità delle risorse che consentono le persone di avvicinarsi il più possibile a quello che è la loro la loro vita ideale la vita che hanno sempre immaginato e sognato in questo video voglio parlarti di questo e in particolare voglio parlarti del momento in cui arriva la crisi qualsiasi tipo di crisi a un certo punto nella vita di ogni persona vedremo come nascono le crisi e soprattutto come poter fare una volta che ci si trovi in una situazione di crisi superarla in maniera efficace e portando avanti più possibile quella che è la nostra la nostra vita che vogliamo mi sono preso un po di tempo per per riflettere su questo tipo di idee è qualcosa su cui lavoro normalmente con le persone soprattutto nel mondo del del dello sviluppo personale della crescita personale che di solito è un po magico un po affatato è un po evitante rispetto a idee di cose che possono succedere no che che non vogliamo sono sempre molto sul pensiero positivo sulla legge d'attrazione sul credici forte e invece io quello che ho fatto è analizzare anche quello che succede a me alle persone vicine nel momento in cui mi sono trovato o si sono trovate a vivere un'esperienza di crisi e quindi ho lavorato su una serie di idee su una serie di concetti molto applicabili molto pratici che possano che spero possono esserti usi quando ti troverai inevitabilmente in un momento di crisi perché comunque la crisi fa parte della vita di ogni essere umano ed è un momento di transizione spesso e ti faccio notare che ho detto ti capiterà inevitabilmente la vita va avanti la vita evolve non viviamo nel mondo dello sviluppo personale del credici forte del del tutto no l'universo è perfetto perché questo è come pensa un patito del pensiero positivo del linguaggio positivo probabilmente come questi video dicendo che non è d'accordo e in realtà quello che sto facendo non è proiettare nella vita delle persone la necessità di una crisi è qualcosa di assolutamente normale che per tutti ci siano dei momenti in cui questa questa transizione appare tralasciamo le volte in cui qualcosa di improvviso avviene in maniera impetuosa qualcosa che che entra nella vita di una persona in maniera a volte violenta una catastrofe una perdita di un lavoro qualcosa di di inaspettato o crisi che derivano dal dal tempo dall'evolvere di qualcosa della maturità no le crisi in una relazione in un matrimonio la crisi non lo so che i 50 anni del settimo anno dei 15 anni di lavoro non lo so ci sono diverse manifestazioni diverse epifania di di questa parola che però possiamo cercare di di categorizzare qualche modo di di generalizzare la crisi è qualcosa che succede all'esterno di noi che è un cambiamento importante rispetto a prima molto spesso è negativo il nostro sistema mente corpo lo legge in negativo e ma spesso è dovuto una maturazione interna che ci porta essere qualcosa di diverso da quello che eravamo prima abbiamo maturato esperienze accumulato informazioni volte stress a volte benessere quindi qualcosa che succede da fuori no un cambiamento improvviso qualcosa che succede dentro di noi siamo cresciuti e stiamo cambiando pelle in qualche modo e lavorando tantissimo con le persone con le organizzazioni con le società con le persone nella nella mia ricerca nella mia nel mio sperimentale anche applicare queste idee con con i gruppi e con i singoli e che molto spesso nel momento in cui stiamo nel nostro contesto non ci rendiamo conto non siamo presenti a quello che sta succedendo in quel momento l'essere umano tende ad avere e a costruire per se stesso una routine mi sveglio la mattina mi lavo la faccia faccio le mie cose accendo il computer controllo le mail controllo le azioni se ne ho e soprattutto ho una aspettativa di un certo tipo rispetto a quello che penso che succederà quella giornata una giornata tranquilla mi aspetto mi sono fatto una previsione mentale di quello che succederà quella giornata lì ho una particolare aspettativa e e ho sono abbastanza sicuro che una serie di cose succederanno all'interno di quella giornata no sono sicuro che il sole tramonterà e e sorgerà domani mattina e questo siamo tutti abbastanza sicuri tutti ma potrebbe potrebbe non essere così e così lo facciamo anche con con una serie di cose che pensiamo che succederanno perché abbiamo bisogno di una routine di qualcosa che ci dia sicurezza a cui ancorarci io so che se preparo un corso lanciano a me ma mando delle mail mi aspetto di venderne qualche copia qualche qualche persona e so che quando lavoro con qualcuno nel momento in cui lavoro con qualcuno visto che l'ho fatto diecimila volte so già che tipo di risultato aspettarmi in una sessione di facilitazione di coaching uno a uno se lavoro con un gruppo so già che tipo di risultato aspettarmi alla fine del corso alla fine della giornata ho delle aspettative basate sulla mia esperienza passata sulle mie abilità sulle mie skill anche su quello che che è il contesto e il gruppo con cui lavoro abbiamo bisogno come esseri umani di questo tipo di di questo tipo di prevedibilità del contesto e di noi stessi mi aspetto una serie di cose mi aspetto cosa cosa ti aspetti tu cosa si aspettavano i nostri genitori no? molto probabilmente i nostri genitori o i nostri nonni si aspettavano che se se avessero fatto i bravi studiato lavorato tutti i giorni avrebbero avuto la promozione se si fossero laureati avrebbero avuto il posto fisso cosa che poi si sono dimostrate non vere per esempio no? ognuno di noi ha delle aspettative che ci siano una serie di cose che succedono ma che non necessariamente sono lì molto spesso io inizio a vivere la mia giornata con una serie di cose che mi aspetto sono lì ma non è detto che ci siano ma non ho i dati no? quella è la mia idea di quello che succederà quindi i nostri nonni e i nostri genitori i miei genitori in questo caso sapevano che andavano all'università si laureavano trovavano un certo tipo di lavoro c'era la garanzia che questa serie di cose sarebbe successa in questa sequenza lì no? non necessariamente era così ma avevano una base statistica abbastanza affidabile e il problema è che poi a un certo punto molti dei loro figli molti di noi sono cresciuti con questa stessa loro aspettativa ma nel frattempo quelle cose non erano più presenti quando abbiamo un modello che rappresenta abbastanza bene quello che c'è all'esterno questo mi permette anche di calcolare di fare strategie di pensare a quello che succederà in futuro un evento improvviso un evento catastrofico è qualcosa che non mi aspetto arriva così violentemente così pesantemente che stravolge tutte le strategie programmi che avevamo fatto penso solo alla pandemia del 2020 e per molti è stato qualcosa di assolutamente improvviso per qualcuno no no? ma prevedere il futuro è qualcosa che facciamo lo fanno le aziende che hanno dei veri e propri modelli di prevedibilità ma lo facciamo anche noi esseri umani che lo facciamo in maniera prettamente inconscia no? ma io quando faccio pubblicità mi aspetto di avere un tot di ritorno dalla pubblicità che faccio nel momento in cui cambio interamente il contesto e quella roba non funziona più devo trovare un altro modello che funziona e ricominciare a strategizzare a fare strategie abbiamo bisogno di organizzarsi la vita in modo tale che sia un po' prevedibile ma il punto è che lo facciamo su dati che immaginiamo ma non necessariamente siano presenti molto spesso abbiamo il tempo di creare di elaborare dei nuovi modelli per muoverci nella realtà perché ne abbiamo bisogno no? ma un nuovo modo di operare di essere me stesso a volte prende un po' più di tempo soprattutto quando magari cambiano le situazioni al contorno cambia il contesto sono stato abituato a stare in una relazione per dieci anni finisco la relazione e devo cambiare modello perché non è più presente quello che era presente prima mi trasferisco in un altro posto vado in crisi perché non ho più i miei riferimenti dopo un po' inizio nel nuovo posto a costruire una serie di abitudini una serie di conoscenze, di competenze in una nuova area che mi portano ad essere in una posizione nella quale la crisi di alcuni anni prima non è più presente perché nel frattempo ho costruito delle abilità il punto secondo me al di là del fatto che come dicono gli americani shit happens le crisi succedono il punto è sempre quello di aggiornare più velocemente i dati della realtà ciò che è presente nella realtà e operare in base a quello che è presente e non in base a quello che vorremmo fosse presente e che non c'è più in relazione non a ciò che penso debba esserci perché c'era ieri ma in relazione a ciò che davvero c'è in quel momento questo cambia totalmente il modo di reagire alla crisi lo velocizza enormemente il vero problema è che noi esseri umani agiamo come quando vediamo la luce delle stelle in questo momento ma in realtà è una luce che viene da mille anni fa da dieci anni fa da un milione di anni fa quello che vediamo oggi di una stella distante due anni luce non è cos'è quella stella oggi ma è quello che era due anni fa perché la luce ci mette due anni per arrivare da noi ecco questa è un'analogia molto interessante noi esseri umani spesso non agiamo in relazione a ciò che è presente in questo momento tutti quanti me compreso ma in relazione o meglio abbiamo la tendenza a fare così ma non agiamo in relazione a ciò che è davvero presente o meglio non è la cosa che ci viene più naturale fare e non ci viene più naturale farlo perché una volta che abbiamo trovato qualcosa che funzionava che ha funzionato per un certo tempo stiamo quando non funziona più passa un certo leg di tempo nell'attesa che quella cosa ritorni e nel frattempo però il mondo è cambiato questo è uno dei motivi per cui avvengono le crisi perché c'è una dissonanza che è il contrario della risonanza del resonance che è il modello con cui con cui lavoriamo che non ci fa vedere ciò che è presente che non ci fa vedere i segnali dal sistema la realtà all'interno della quale operiamo ma questo lo facciamo molto spesso anche quando inizia qualcosa entriamo in un lavoro in un nuovo posto di lavoro e ne siamo entusiasti anche se ci sono due o tre cose che non ci piacciono più di tanto no? sono cose che pensiamo di poter cambiare ma che in quel momento sappiamo già che sono un problema perché violano in qualche modo i nostri valori il nostro modo di essere all'interno di un posto di lavoro ma il 90% va bene anche se quelle cose sono pesanti ma pensiamo di poterle cambiare a un certo punto arriviamo dopo un anno due anni che quelle cose diventano insostenibili ma erano presenti già dall'inizio solo che abbiamo deciso di ignorarle la stessa cosa in una relazione conosciamo una persona ci piace tanto anche se ha un paio di cose che ci danno veramente 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 fastidio però in quel momento nella come dire nella relazione nella bellezza della relazione sono dei dettagli trascurabili dopo un anno diventano diventano importanti perché diventano sono dei come dire diventano dei problemi magari caratteriali per noi o fisici che non ci piacciono che all'inizio non ci piacevano più di tanto e che dopo un po' vengono amplificati ma erano presenti già dall'inizio questo cosa vuol dire che dobbiamo cercare la perfezione fin dall'inizio in un lavoro in una relazione in un contesto no ma dobbiamo capire che la crisi non arriva mai all'improvviso arriva perché non stiamo aggiornando abbastanza velocemente non abbiamo aggiornato abbastanza velocemente i segnali di ciò che è presente in quel momento gli animali non vanno in crisi perché sono molto più veloci a riaggiornare ciò che è presente per loro perché non hanno come dire la neocorteccia non elaborano dei modelli complessi sulla realtà li elaborano rispetto allo spazio rispetto a delle conseguenze delle relazioni causa effetto anche come dire abbastanza significative abbastanza importanti ma non elaborano dei modelli veramente complessi della realtà che diventano dei Moloch per loro dei totem da cui come dire non distaccano non diventano delle religioni gli animali non hanno religione dove per religione intendo qualcosa in cui avere fede contrariamente a ciò che vediamo a ciò che ci arriva dalla realtà adesso davvero non sto dicendo che bisogna evidenziare gli aspetti negativi delle cose sto solo dicendo che bisogna avere attenzione a ciò che è presente all'esterno a tutti i segnali che sono all'esterno non solo a quelli che ci piace vedere a quelli che ci piace osservare e succederà lo faremo ancora perché come esseri umani siamo anche fatti così andiamo a filtrare per ciò che ci piace non vedere ciò che non ci piace è un bias che abbiamo possiamo ridurre il tempo della crisi imparando a riaggiornare più velocemente ai primi sentori anzi ancora prima che arrivi la crisi a riaggiornare le nostre come dire il nostro modello della realtà in base a ciò che vediamo a ciò che sentiamo a ciò che tocchiamo a ciò che è presente e valutare ciò che c'è per ciò che c'è e quando le persone normalmente fanno il contrario cancellano dei dati proiettiamo proiettiamo a volte anche il passato siccome abbiamo avuto quel tipo di storia in passato la mia vita in futuro sarà la stessa non è così è che ogni giorno tu riproietti ricrei quel modello nello stesso modo e ti mantieni all'interno di quella crisi ricrei il tuo passato ogni giorno per questo nel resonance sono i lavori che facciamo quello che chiamo prendere le informazioni dal futuro e non dal passato perché il passato proiettato rimane ciò che è sempre stato il futuro ti dà lo spazio per muoverti in un contesto in cui è tutto libero e hai più libertà per decidere cosa vuoi che è un'abilità abbastanza difficile capisco che bisogna praticarla che bisogna come dire bisogna capire come funziona anche e soprattutto a livello corporeo a livello somatico a livello di come ti senti nell'essere in questo modo di essere in questa attrazione dal futuro invece che spinta da dietro dal passato ma in questo momento è domenica sono seduto nella mia casa di latina c'è il sole fuori e fra un po' andrò a mangiare una pizza mi sono allenato ho bevuto un caffè ho fatto degli esercizi di posturale ho suonato la mia chitarra sono corto di aver fatto un piccolo progresso nello studio nella pratica del jazz questo è tutto ciò che è presente non c'è nient'altro può essere poco può essere tanto ho delle aspettative sulla serata su quello che sarà domani fra pochi giorni ci sarà la settimana estiva a Verona e sono dati tutto il resto sono proiezioni di ciò che mi aspetto io faccio bene a tenere presenti per andare in quella direzione ma se cambia qualcosa nel contesto devo riaggiornare velocemente ciò che è presente per aggirarlo per integrarlo nel mio movimento verso ciò che voglio ed è importante mantenere l'attenzione su ciò che c'è su ciò che è presente quindi l'idea su cui bisogna lavorare adesso ed è veramente uno dei capisaldi del lavoro sulla crisi è che paradossalmente la crisi non è presente nel momento in cui vivi l'esperienza in cui sei nella realtà la crisi è sempre dissonanza tra ciò che ti aspetti e ciò che c'è che è un lavoro complessissimo capisco c'è chi ci passa vent'anni di meditazione per capire questa cosa e per sentirla noi nel residence ci lavoriamo una settimana e alcuni mesi per arrivare ad avere lo stesso tipo di consapevolezza corporea somatica nell'essere presenti a ciò che c'è ed è molto interessante ed è molto interessante perché cambia l'emotività cambia cambia il modo in cui sei cambia il modo in cui comunichi cambia tutto perché ciò che è presente all'immediato non è quello che c'era dieci giorni fa e questo mi consente anche di progettare in maniera migliore a lungo termine come voglio che sia la mia vita perché questo cambia totalmente il riferimento cambia anche la percezione di ciò che è possibile e non è possibile perché non ho più un passato che mi sta addosso quando imparo ad essere attratto dal futuro e quello diventa il mio riferimento inizio ad essere capace di agire molto più velocemente rispetto a ciò che voglio inizio ad essere inizio ad essere antifragile come direbbe Nassim Taleb un libro bellissimo perché anche se il sistema all'interno del quale mi trovo è stato agitato è stato scosso in maniera notevole io ho una velocità nell'adattarmi a ciò che è presente in quel momento lì ti do appuntamento al prossimo video nel frattempo fai un po' di riflessioni su questo e ti abbraccio ti aspetto magari ad uno dei prossimi corsi Resonance e iscriviti anche al canale se ancora non l'hai fatto ciao da Simone grazie a tutti